ciao a tutti oggi vi propongo una nuova ricetta si tratta delle pannocchie cotte in microonde facilissime buonissime il sapore sarà speciale perché rimarrà tutto concentrato all'interno di ciascun chicco del mais se il video vi è piaciuto un bel like e se vi va iscrivetevi e condividete ciao per questa ricetta abbiamo bisogno di 2 o 4 pannocchie quindi ben pulite e sfogliate le imburriamo le poggiamo quindi su un piatto adatto alla cottura in microonde e andiamo in microonde per 6-10 minuti al massimo della potenza facciamo la prova a stecchino e come vedete penetra perfettamente ecco che le tagliamo a metà e quindi abbiamo due possibilità o le saliamo nel mio caso uso sale rosso oppure coliamo del miele caldo su ciascuna metà e la gustiamo come un dessert ecco qui sono pronte per essere gustate ciao ciao ciao